Ciao tesori e tesore, allora in questo video vi mostro i miei piccoli acquisti fatti oggi proprio mentre sono andata per fare dei regali ho visto uno stander un po' perlinoso dove ho trovato delle pietre particolari e ho preso queste pietre e anche due cose che secondo me trovo particolari per una cosa che ho mente io, una creazione che ho mente io e vi mostrerò anche un'altra mia creazione allora iniziamo con i miei acquisti ho preso questa conchiglia che è molto carina, se vedete, sembra una madre perla mi ha colpito e ho in mente di fare qualcosa poi ho trovato queste pietre qui devo dire la verità, fili di perle non ne ho provati quindi ho trovato tutte queste pietre ovali e mi hanno colpito che ho presi sono molto carina queste soprattutto hanno un colore che qui in videocamera non rende ho preso questa la più particolare di tutti secondo me è questa perchè sembra che è schiacciata qui in questi punti ma non è così è proprio bella da incastonare secondo me ci devo provare perlomeno poi ho preso questa conchiglia che mi piace proprio per colore verde sono in fissa, per questo colore ci farò sicuramente qualcosa e in questo stand si chiama Lui Lan Accessori magari se vi capita poi ho fatto un'altra creazione di nuovo un altro angelo ormai sono andata in fissa per gli angeli guardate quanto è carino e questo è un pensiero in più che donerò a Natale lo metterò compreso nei ricadini che ho già preparato quindi spero vi piace questa mia creazione e che sia anche di ispirazione per voi e che mi piacciono anche i miei piccoli acquisti queste sono le cose che ho acquistato e questa è la creazione con questo video vi saluto e fino all'8 dicembre non farò video perchè poi l'8 dicembre farò l'estrazione e penso che saranno gli ultimi video che riuscirò a pubblicare sia l'estrazione e forse qualche sorpresa che non anticipo quindi un bacio a tutti voi e a tutti voi ciao tesori e tesorie ciao